Allora, la lezione di oggi dovrebbe essere un po' più pratica, quindi iniziamo effettivamente a scrivere un po' di codice cercando di mettere assieme tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Prima di iniziare effettivamente con la lezione di oggi, vi chiedo se avete delle domande specifiche. La prima la vedo già sulla chat ed è esattamente che cos'è il comando, come funziona il metodo intern sulle stringhe. Allora, intern in realtà è un metodo sostanzialmente di istanza che io posso andare a invocare su una stringa specifica e quel metodo mi restituisce o la stringa stessa, se non esistono altre copie di quella stringa già pre-registrate, oppure mi restituisce un'altra stringa che ha lo stesso contenuto ma è stata registrata in precedenza. Quindi quello che io posso fare è andare a scrivere s uguale intern, scusate, s uguale s.intern in modo da sostituire s con la versione già pre-registrata, oppure mantenere s se invece è la prima che ha quel contenuto. Se non avete altre domande specifiche relative alle lezioni già pre-registrate, direi che possiamo iniziare con quella che è la lezione di oggi. L'altra domanda è se inizializzo tutte le stringhe con virgolette, non ho bisogno di virgolette nel senso con letterali, non c'è necessità di intern, esatto, perché comunque il compilatore tutte le volte che noi utilizziamo un letterale, quindi una stringa tra virgolette per l'appunto, automaticamente chiama in maniera trasparente, nel senso che inserisce la chiamata ma noi non la vediamo, intern e quindi non esistono duplicati. Allora, diciamo che il titolo della lezione di oggi potrebbe essere dal design al codice. Riprendiamo l'esempio che vi avevo citato qualche lezione fa della ricevuta di un negozio, in cui l'idea che abbiamo un registratore di cassa che emette le ricevute di acquisto e una ricevuta è fatta da elementi, ogni elemento corrisponde a un prodotto che ha un nome e un prezzo. I prodotti sono memorizzati in una lista di prodotti e in ogni momento, cioè ogni volta che un prodotto, o meglio un codice di un prodotto è inserito, l'item corrispondente viene aggiunto alla ricevuta. Alla fine, dopo che tutti gli item sono stati aggiunti, sostanzialmente viene stampata la totale della ricevuta. Se ricordate, avevo prodotto io, seguendo una serie di passi, questo specifico diagramma UML, che prevede una serie di classi che riguardano sostanzialmente la ricevuta, come il concetto generale di ricevuta, i singoli elementi e oltre ai singoli elementi abbiamo i prodotti e quella che è una lista prodotti. È una possibile soluzione. Il pregio di questa soluzione è che sostanzialmente rappresenta tutti i concetti del nostro problema e quindi è relativamente intuitivo. Soprattutto è facile capire che cosa rappresenta ogni classe. Una discussione che avevamo fatto è se è il caso di utilizzare la classe price list oppure no, oppure semplicemente avere una lista o un array di prodotti. Allora, non è strettamente necessario, però il concetto di lista di prodotti rappresentato come una classe è più facile da comprendere rispetto a un array che si chiama lista di prodotti. Quindi rappresento un concetto e dopodiché lo vado ad utilizzare nel mio programma. Quello che vorrei fare a questo punto è sostanzialmente andare a vedere come posso utilizzare all'interno del mio programma queste classi e come faccio a tradurle in codice Java. Per cui a questo punto passiamo al Eclipse che abbiamo qua. Io vi ho già preparato un progetto che si chiama ricevute, in cui andremo a mettere le varie classi. Iniziamo a ragionare in termini di quali elementi servono. Allora, vi vi condivido lo schermo che forse è più facile. Ok, così riuscite, dovreste essere in grado di vedere poi anche tutti i pop-up. A questo punto, quali classici servono? Allora, sostanzialmente a partire da queste classi è facile andare a creare delle classi Java. Quindi la prima corrispondenza che abbiamo è per ogni classe del nostro modello UML avremo una classe all'interno di Java. Semplice, semplice. L'altro passo facile da attuare è quello in cui per ogni attributo avremo un attributo delle nostre classi Java e infine per ogni metodo andremo a creare un metodo. un po' più complicato è andare ad esempio a rappresentare quelle che sono le associazioni. Per cui se immaginiamo di avere la classe ricevuta la classe item com'è che rappresentiamo questa associazione di contenimento? Iniziamo a creare le due classi e poi andiamo a ragionare sulle modalità di rappresentazione di quell'associazione. Quindi nuova classe la classe sostanzialmente è receipt uso i nomi inglesi così sono coerenti con il diagramma che abbiamo visto prima. La classe è questa inizialmente vuota l'abbiamo messo nel package default cosa che non è raccomandata infatti adesso vi creo un'altra classe vi faccio notare che quando vado a creare una classe e questo la chiamiamo item qua su in alto c'è un warning che mi dice l'uso del package default è scoraggiato quindi è preferibile non farlo. Eclipse vi dà un sacco di suggerimenti man mano che scrivete il codice fate attenzione perché alcuni potrebbero essere utili e effettivamente significativi da osservare. Io qui di primo momento faccio finta di niente ma a questo punto vado a fare src click destro nuovo package e lo chiamiamo ricevute uso un nome breve invece di it, polito, po2020, punto, esempi, punto, ricevute perché così almeno abbiamo del codice un po' più facile da leggere ok? Quindi questo l'ho chiamato ricevute e sposto queste due classi dentro ricevute vedete che automaticamente Eclipse che mi garantisce che il codice sia corretto mi ha aggiunto la dichiarazione di package qua su in cima ok? Il package di default è scoraggiato perché come abbiamo visto quando abbiamo parlato di package sostanzialmente non è possibile accedere a una classe che si trovi in un package di default da qualunque altra classe allora io vi metto qui un'altra classe Pippo la mettiamo qua su nel package di default ecco se io dall'interno di ricevuta volessi fare riferimento a Pippo dichiarando una variabile ovviamente devo eliminare questo Pippo qua non lo posso fare perché? perché non è nello stesso package allora voi direte va bene allora facciamo un import il punto è che se io metto semplicemente Pippo questo non fa riferimento a nessuna classe perché l'input prevede la sintesi dell'input prevede che ci sia il nome del package punto il nome della classe qui c'è soltanto il nome della classe quindi le classi che stanno nel package di default non possono essere viste da nessun'altra classe in qualunque altro package per cui vuol dire che abbiamo delle classi che sostanzialmente sono inutilizzabili da tutto il resto per cui non è vietato se io metto un po' di classi nel package di default funziona il problema è che nel momento in cui le metto lì queste sono inaccessibili da qualunque altro package a questo punto torniamo indietro cancelliamo queste classi e torniamo al nostro discorso di prima allora un attimo che c'è un'altra domanda allora sostanzialmente io quando sposto qualcosa è uno spostamento per cui quando l'ho spostato dal package di default a ricevute me la spostate in molti altri casi fa la copia ma in realtà dipende un po' dalle vostre delle vostre combinazioni di tasti allora dicevamo la classe ricevuta nel nostro esempio non ha nessun attributo la classe item in realtà non ha un attributo ma fa riferimento ai prodotti immaginiamo di fare una versione un po' più evoluta in cui dentro la classe item andiamo a mettere un private int quantità per cui un item potrebbe essere non una bottiglia di birra ma 5 bottiglie di birra ma la domanda che ci facevamo inizialmente è come faccio a rappresentare nel codice l'associazione che abbiamo qui tra ricevuta e item se io qui dentro la ricevuta metto un private item item questa è una possibile rappresentazione il problema è che di nuovo andando a vedere in questo diagramma da una ricevuta io posso vedere zero o più item zero se item è uguale a null va bene uno se io qui metto riferimento a un item va bene più di una non riesco a farlo per cui utilizzando esclusivamente quanto abbiamo visto finora ci sono un paio di soluzioni la prima soluzione è la seguente invece di mettere item così vado a mettere un array di item per cui quando vado a implementare il metodo add che è un metodo che aggiunge un codice quindi public void add int code andrò a creare un nuovo item e lo metterò dentro questa array ok quindi come faccio a mettere l'item all'interno di un array ovvero ho una serie di elementi come faccio ad aggiungere il mio item all'interno di questa serie di elementi quello che posso fare nel caso più semplice è di utilizzare un private int next inizializzato a zero cioè questo è l'indice fatemelo scrivere così next index che mi dice qual è la prossima posizione in cui andrò a mettere un riferimento ad item domanda l'attributo lente di array è modificabile no l'attributo lente di array è fisso quindi una volta che io creo un array quella dimensione non è più modificabile quindi che cosa vado a fare qua quando devo fare un add andrò a creare un nuovo item uguale new item e poi andrò a dire items mettiamo il plurale per indicare che è un array di next index uguale a nuovo item e poi next index scusatemi uguale a scusate più più così lo incremento cosa succede? io ho un array di elementi uso come primo indice lo 0 creo un nuovo item e vado a memorizzare dentro il primo elemento di questo array il riferimento a questo item e poi incremento next index in modo che alla prossima invocazione di questo metodo io vada a inserire l'elemento dentro la posizione 1 allora a questo punto bisognerebbe passare anche l'indice no non devo passare l'indice perché l'indice è un attributo di questa classe e quindi resta nell'oggetto ricevuta creo un oggetto ricevuta il cui indice inizialmente è 0 chiamo il suo metodo add lo incremento quindi la volta successiva che chiamerò il metodo add dentro quell'oggetto il metodo next index non è cambiato è stato incrementato a 1 e quindi resterà 1 altra domanda non è chiaro come abbiamo definito la dimensione dell'array ecco questo è un'osservazione interessante perché in effetti non l'ho fatto non ho allocato l'array scusate un attimo effettivamente mi sono dimenticato di andare a inizializzare l'array in realtà mi sono dimenticato l'ho fatto apposta per creare il caso per cui effettivamente qua potrei andare a dire new item quadre diciamo 10 altra domanda next index avremmo potuto dichiararlo come aesthetic risposta no no perché se avessimo dichiarato next index come aesthetic vuol dire che tutte le ricevute hanno lo stesso indice quindi quando ho più ricevute incrementando l'indice di una ricevuta automaticamente tutte le altre vedono lo stesso indice incrementato la mia raccomandazione è non utilizzare mai a meno che siate estremamente sicuri di quello che fate attributi di tipo statico ora torniamo al nostro codice dopo possiamo provare ma potete provare poi anche voi a casa a mettere qua uno static e vedere come non funzioni nulla allora in questo caso io ho inizializzato i due attributi di receipt direttamente in linea questo è quello che si chiama l'inizializzazione in line ok e sarebbe stato del tutto equivalente andare a mettere un costruttore che avesse dichiarato items uguale a new item di 10 e next index uguale a 0 ok quindi questa è l'inizializzazione col costruttore questa coppia di inizializzazioni questo uguale e quest'altro sono sostanzialmente equivalenti a questa scrittura dentro il costruttore ovviamente l'inizializzazione in line è un po' più compatta questa richiede un po' più di spazio però ad esempio potrebbe essere utile se io volessi passare al mio costruttore int size e quindi utilizzare size variabile quindi se voglio creare un costruttore scusate una ricevuta normale automaticamente questa ha dieci elementi altrimenti posso utilizzare un costruttore in cui passo la dimensione e quindi uso quella dimensione per andare a inizializzare il mio array ovviamente usando un valore fisso l'inizializzazione in line e quella nel costruttore sono assolutamente equivalenti se invece un parametro il parametro deve stare per forza nel costruttore altrimenti qui non ce l'ho a disposizione domanda se non avessimo inizializzato quel array avremmo ottenuto un null pointer exception sì ok dopo lo vediamo gli errori tipici sostanzialmente se io dimentico di inizializzare l'array adesso qui l'abbiamo inizializzato in tutti i modi possibili il risultato sarebbe poi un null pointer exception nel momento in cui cerchiamo di utilizzare items per accedere a un suo elemento in questo caso anche in assenza di questi due costruttori io posso tranquillamente andare a creare un nuovo oggetto receipt senza alcun problema vado a crearvi una nuova classe la mettiamo nel package di default tanto per esempi ricevute andiamo a chiedere ai clips di mettere un metodo main utilizzando questa selezione automaticamente clips general main che è una cosa comoda perché evitiamo di commettere errori andando a scrivere tutta questa dichiarazione quindi quando io scrivo receipt r uguale new receipt receipt non c'è quindi eclips mi dice guarda che ti conviene importare receipt dalla package ricevute se io seleziono questo automaticamente eclips mi aggiunge questi import quindi questo funziona tranquillamente e in particolare questa invocazione va a chiamare questo primo costruttore in alternativa io potrei andare a mettere qui 20 a questo punto questa invocazione andrebbe a chiamare questo costruttore ok l'errore che avete visto segnalato qua era dovuto al fatto che io non avevo ancora salvato receipt con questo nuovo elemento ok quindi raccomandazione generale salvate spesso per cui se io passo il parametro intero automaticamente viene chiamato questo secondo costruttore che attende un parametro intero se io non mettessi questi due costruttori ma lasciassi semplicemente l'inizializzazione in line ovviamente non posso passare nessun parametro ma se chiamo il costruttore senza parametri automaticamente il compilatore me ne fornisce uno vuoto che non fa nulla e in ogni caso avrei i miei due attributi inizializzati come descritto qua con questa inizializzazione in line domanda in questo metodo add dovrei confrontare next index con la lunghezza prima di aggiungere sì qui io ho messo il codice essenziale effettivamente manca il controllo e quindi se next index è maggiore o uguale di items punto length system out println errore raggiunto raggiunto limite scontrino e return quindi questo sostanzialmente è un modo un po' più corretto che evita di andare a superare i limiti dello scontrino allora altra domanda se ho un'inizializzazione in line e in più ho l'inizializzazione che adesso vi vado a rimettere nel costruttore cosa succede? succede che sostanzialmente quando il compilatore quando la return machine scusate crea l'oggetto invece di inizializzare questi valori col valore di default li inizializza in questo modo dopodiché chiama il costruttore quindi il costruttore in questo caso sovrascrive l'inizializzazione data tramite l'inizializzazione in line quindi è una riscrittura quindi in pratica qui vado a creare due volte un array di dieci elementi la prima volta in line e poi la seconda volta nel costruttore quindi di solito non si mettono tutte e due ma si mette o uno o l'altro quindi in alternativa a in line ok quindi torniamo al nostro esempio di ricevute non vi faccio la lettura da tastiera perché abbiamo visto che è un po' complicata però immaginiamo di avere un programma che lo legge e permette poi di andare a chiamare il metodo r.add e quindi qui vado a mettere che so dieci r.add 47 r.add 523 queste tre operazioni sostanzialmente vanno a chiamare il metodo add della ricevuta che aggiunge un nuovo item gli item per il momento non li abbiamo toccati quindi in realtà item semplicemente viene inizializzato con quantità uguale a zero quindi potrebbe aver senso qui andare a definire un costruttore che metta la quantità uguale a uno quindi public item quantità uguale a uno io qui vi ho fatto un costruttore ma in maniera del tutto analoga potremmo andare a definire un'inizializzazione in line ad esempio quantità uguale a uno a questo punto queste due inizializzazioni come sapevamo prima sono sostanzialmente ridondanti perché fanno la stessa cosa quindi scrivono due volte lo stesso attributo potremmo evitarlo quindi togliere questo costruttore oppure visto che abbiamo la classe quantità quindi qui andare a definire una quantità e dire che tis.quantità uguale quantità ok a questo punto però abbiamo un piccolo problema allora se io non metto nulla dentro la mia ricevuta posso tranquillamente andare a creare un nuovo item perché perché in assenza di costruttori automaticamente il compilatore me ne fornisce uno senza parametri quindi implicitamente il costruttore se non metto nulla è come se mi mettesse un public item aperta chiusa tonda aperta chiusa graffa ok generato in assenza di altri costruttori se però quindi qui ve l'ho scritto e me lo metterebbe il compilatore se non lo metto il compilatore me lo scrive se però io vado a inserire questo costruttore allora il compilatore mi dice va bene se tu mi hai dato un costruttore allora io non ti metto più quello di default senza parametri il risultato però è che dentro la mia receipt mi ritrovo che new item non è più corretto perché non essendoci più quello generato automaticamente al compilatore qui ci si aspetta che il costruttore di item riceva un parametro quindi attenzione il costruttore di default senza parametri viene generato automaticamente soltanto se voi non fornite alcun altro costruttore se noi vogliamo consentire la creazione di un item sia senza parametri sia specificando un parametro che è il numero di oggetti allora qui dobbiamo andare a mettere un costruttore scritto esplicitamente e che non riceva alcun parametro a questo punto se non usiamo parametri viene chiamato questo che non fa nulla in realtà sfrutta l'inizializzazione in line altrimenti se passa un parametro intero viene chiamato questo torniamo alle nostre ricevute allora abbiamo avuto la possibilità di aggiungere degli item e in realtà però non abbiamo fatto un'operazione particolarmente complicata perché dentro gli item non abbiamo messo nessuna informazione sul codice non abbiamo messo nessuna informazione sul codice perché in realtà i prodotti per il momento non li abbiamo ancora messi ok vediamo come potremmo andare a stampare l'elenco degli item ok non saranno incompleti perché non ci sono ancora i dettagli né sui prezzi né sui nomi dei prodotti però abbiamo visto che scusate qua c'è un metodo print che sostanzialmente permette di andare a stampare tutti gli elementi della nostra ricevuta e quindi vediamo come potremmo implementarlo quindi torniamo ai nostri esempi e qui dopo aver inserito questi tre prodotti facciamo un r punto print ora ovviamente eclipse come potevano facilmente aspettarci mi dice guarda che il metodo print non è definito nel tipo receipt è giusto c'ha ragione però in questo caso eclipse ci dice guarda che se vuoi io ti posso creare un metodo che si chiama print dentro receipt questa è una capacità di eclipse ma anche di altri editor che è molto utile perché io posso tranquillamente andare a scrivere la chiamata un metodo prima ancora di aver scritto il metodo stesso e poi dico eclipse guarda generami un metodo che sia compatibile con questa chiamata in questo caso si tratta di un metodo che non avrà parametri e che si trova dentro la classe receipt quindi chiedo eclipse di crearmi questo metodo e il metodo è quello che mi è stato generato qua giù in fondo ovviamente ha inserito un commento guardate che questo è un metodo autogenerato e quindi dovrete andare a scriverci qualcosa quindi eclipse è in grado rispettando le regole della sintassi java di crearmi un metodo corretto quindi con il tipo di ritorno la visibilità e i parametri giusti ma ovviamente non sa cosa mettere dentro come facciamo fare la scansione e la stampa dei nostri item quello che possiamo fare è sostanzialmente andare a fare un ciclo il modo classico di andare a fare un ciclo è quello di utilizzare un indice a differenza di quanto avviene in c io in java posso andare a dichiarare la variabile direttamente qua dentro il ciclo for i minore di items punto length ecco che qui viene in aiuto items più più i la domanda di prima se io faccio items punto length più più il compilatore mi dice guarda che length è sostanzialmente final e quindi non ci posso scrivere dentro ok quindi in questo caso cosa andrò a fare andrò a fare items di punto print immaginando di mettere un metodo print che sta anche dentro items metodo print non c'è in items chiediamo ai clips di generarcelo e quindi abbiamo questo metodo qua che ci è stato generato dai clips ovviamente il metodo è vuoto c'è un questo to do che mi dice guardate che deve ancora scrivere qualcosa e quindi torniamo indietro alla ricevuta e vado a tornare a questo ciclo quindi questo è il ciclo che noi possiamo utilizzare per andare a stampare ok allora ci sono un po' di di commenti direi tutti utili e interessanti allora primo commento si poteva utilizzare anche la versione aspettate che ok nelle ultime versioni di C è possibile utilizzare l'indice ok sì non in quello vecchio standard giusto perché più più i e non in più più beh in questo contesto è assolutamente lo stesso non cambia nulla in generale più più i è leggermente dipende poi dall'ottimizzazione del compilatore ma più più i è leggermente più efficiente dell'i più più perché prima incrementa e poi preleva il valore nell'altro caso invece preleva il valore lo mette in una variabile temporanea e poi incrementa però in pratica a tutti gli effetti i più più e i più più i sono sostanzialmente identici perché questa è un'istruzione che viene eseguita alla fine di ogni iterazione ultimo commento non dovremmo fare fino a next inter esatto se io vado a scandire così sostanzialmente mi ritroverò alcuni elementi di items che sono nulli per cui opzione 1 if items di i è uguale a null break ok quindi quando arriva un elemento nullo termino oppure visto che sappiamo quanti sono gli elementi non nulli i minore di next index che è ancora meglio visto che so già quale è l'indice utilizzo quello esattamente l'alternativa è quella di utilizzare il costrutto for each quindi for item it uguale scusate due punti items it.print in questo caso resta comunque il problema del nullo quindi qui if it è uguale a null break quindi sostanzialmente devo terminare il ciclo prima di andare a cascare su un elemento che sia nullo queste tre scritture in termini di funzionamento sono esattamente identiche ok non fanno nulla perché in realtà print dentro item non fa nulla ma diciamo che qui potremmo andare a mettere una versione prototipale system.out print ln tab mettiamo asterisco e poi qua item ok giusto per avere una stampa domanda come si fa a zoomare dipende dal pc che avete a disposizione io semplicemente con un scusate la telecamera è qua con un pinch o swipe riesco a cambiare la dimensione ctrl più aumenta il carattere in alternativa quello che potete fare è andare nelle preferenze allora su mac le preferenze sono qua su windows le preferenze scusate le preferenze sono nella cartella window mi pare o help non ricordo più una delle due comunque una volta che avete aperto le preferenze potete andare in general appearance color and font e qui potete andare a mettere quello che volete vi consiglio di andare a utilizzare basic e poi text font questo è il font di base che sostanzialmente permette di andare a definire sia l'output che io vedo scusate sia il testo che vedo nell'editor che poi il testo che vedo nell'output ok per cui posso andare a impattare entrambi o soprattutto potete andare a scegliere un fonte che vi piace di più che è più leggibile a questo punto abbiamo una stampa abbiamo nella nostra ricevuta il metodo print che in un modo o nell'altro ci fa la stampa allora è ovvio che non posso farlo tre volte perché altrimenti ho tre volte la stampa quindi sostanzialmente quello più compatto probabilmente è questa variante con il ciclo che termina a next index ok a questo punto esempi ricevute io posso andare a lanciare l'applicazione e mi ottengo questo output tre item che ho messo ok benissimo una volta che abbiamo verificato che tutto questo funziona vediamo quali errori avremmo potuto commettere li ho menzionati velocemente prima c'erano state anche alcune domande sostanzialmente il primo errore che io posso andare a commettere mi dimentico di inizializzare item ok next index in realtà metterlo uguale a zero è sostanzialmente ridondante perché automaticamente vi ricordo che tutte le variabili tipo numerico vengono inizializzate a zero quindi questo zero qua è un po' pleonastico è utile metterlo perché è evidente leggendo il codice che è zero altrimenti uno deve fare il ragionamento di qual è il valore di default a cui vengono inizializzati quindi meglio metterlo perché così è evidente qual è il valore quindi se io mi dimentico di inizializzare il mio array quello che ottengo quando vado a eseguire il mio programma è sostanzialmente un null pointer exception attenzione a questo punto vediamo vediamo esattamente come in java la gestione degli errori anche a runtime è molto più sofisticata rispetto a quella che avete in C immaginate di utilizzare in C un puntatore non inizializzato errori di segmentazione ma sostanzialmente quello che succede è che normalmente avviene un crash in questo caso la virtual machine vi dice attenzione guarda che c'è stato un null pointer exception null pointer exception invariabilmente significa che voi avete utilizzato meglio io in questo caso ho utilizzato un riferimento nullo per andare a fare qualche operazione nel caso specifico ho usato un riferimento nullo a un array per usare le quadre inoltre oltre a dimmi che c'è stato un null pointer exception mi dice che il null pointer exception è avvenuto alla riga 21 del file receipt.java dentro il metodo add che si trova nella classe receipt che a sua volta si trova nel package ricevute questo metodo era stato chiamato dal metodo main di esempi ricevute in particolare alla linea 9 quindi qui sotto la dichiarazione quindi la segnalazione che c'è stato un null pointer exception c'è tutto lo stack di chiamata quindi in alto troviamo il punto specifico in cui c'è stata l'eccezione sotto troviamo tutte i chiamanti cioè chi ha invocato quel metodo chi ha invocato chi ha invocato quel metodo eccetera eccetera in questo caso abbiamo due livelli perché il main ha chiamato add e dentro add c'è stata la null pointer exception se noi andiamo a cliccare qua automaticamente ci ritroviamo su questa linea questa linea sostanzialmente è la linea in cui si è verificato il problema in particolare il null pointer exception in generale quando voi avete un null pointer exception per andare a diagnosticare il problema seguite una procedura molto semplice andate sulla linea in cui c'è stata l'eccezione e andate a cercare un punto il punto è sostanzialmente un'operazione di indirezione quindi è un'operazione che prende un riferimento e lo sfrutta per andare a raggiungere l'oggetto quindi ogni volta che vi mettete un punto sostanzialmente quello dice alla virtual machine prendi il riferimento che sta a sinistra del punto e raggiungi l'oggetto puntato se il riferimento contiene null l'oggetto puntato non c'è e quindi quella è una null pointer exception quindi qui deduciamo che ciò che sta a sinistra ovvero items è nullo ovvero se è nullo essendo un attributo significa che non è stato inizializzato o meglio è stato inizializzato al default che è per l'appunto null quindi questo ci indica che items non è stato inizializzato e quindi sostanzialmente ci siamo dimenticati questa linea o meglio l'abbiamo tolta di proposito per andare a vedere domanda l'eccezione con le righe di codice avviene solo in fase di sviluppo? no l'eccezione normalmente viene stampata comunque è un qualcosa che fa la virtual machine quando c'è un'eccezione normalmente quando noi andiamo ad eseguire un'applicazione Java questi messaggi non li vediamo perché molto spesso abbiamo un'applicazione grafica Eclipse per esempio è scritto in Java e quindi se lancia un'eccezione per qualche problema noi non la vediamo perché viene normalmente scritta in un file di log però questo messaggio normalmente viene generato sempre a meno che noi andiamo a scrivere il codice in modo da intercettare lui al suo interno le eccezioni e bloccarle e fare qualche operazione normalmente dobbiamo noi esplicitamente intercettare le eccezioni e andarle a gestire torneremo più avanti sulle eccezioni perché sono un meccanismo abbastanza diffuso in Java per andare a gestire anomalie ed errori e quindi ne parleremo poi in una delle future lezioni non a breve ma comunque un po' più avanti affronteremo il problema di come gestire le eccezioni la print in receipt eccola qua sotto scusatemi allora ci sono le tre varianti con l'indice in un caso che verifica se l'elemento è null l'indice next index e oppure il costrutto for each e questo qua è quello che si chiama for each domanda dal bytecode la Java Virtual Machine conosce il codice non so esattamente cosa significa la domanda cos'è il codice esplicito sostanzialmente la Virtual Machine che cosa fa? prende il bytecode e lo interpreta il bytecode si basa su una macchina stack non entro in dettagli ok quindi la Virtual Machine cosa fa? prende il bytecode e lo traduce in realtà le Virtual Machine un po' più recenti fanno un'operazione ancora più complicata prendono il bytecode lo traducono in codice eseguibile per la piattaforma il processore su cui stanno funzionando e poi esegue il codice nativo questo permette sostanzialmente di avere una velocità di esecuzione ancora maggiore normalmente la traduzione in codice nativo non viene fatta sempre ma viene fatta dopo un certo numero di esecuzioni oppure sotto particolari condizioni però in realtà possiamo immaginare che nel caso più semplice la Virtual Machine esegua il bytecode che è risultato da questa traduzione le Virtual Machine che cosa fanno? conoscono sostanzialmente il codice che abbiamo noi ma hanno non i dettagli conoscono semplicemente la riga in cui noi abbiamo scritto il codice quello che possiamo fare in fase di compilazione è andare a eliminare le informazioni di debug a questo punto torno un attimo a rigenerare l'errore di prima in questo caso quando io tolgo le informazioni di debug questa parte qua quindi con la riga di codice all'interno del file non è più disponibile quindi questa informazione io la posso cancellare in fase di compilazione altrimenti i nomi dei metodi i nomi delle classi i nomi dei package restano perché sono visibili dentro il codice Java per eliminarli dovrei usare uno strumento di offuscazione che però non è standard in Java quindi posso offuscare qualunque tipo di codice ovviamente ma il compilatore l'unica cosa che è in grado di fare è togliere le informazioni sulle righe di codice i nomi dei file ma non va oltre sa esattamente la posizione quindi all'interno di un metodo di ogni istruzione di bytecode domanda la domanda è relativa al ciclo for item et in items significa da zero fino all'ultimo item sì sostanzialmente questo ciclo qua equivale a quello che abbiamo scritto qua su in cima quindi quando io faccio il costrutto for each scandisco tutti gli elementi dell'array perché il compilatore non sa se gli elementi sono nulli o meno lo possiamo scoprire soltanto in fase di esecuzione quindi il compilatore cosa fa a fronte di un ciclo tipo for each scandisce tutti gli elementi ok ricordatevi che alcune operazioni vengono fatte in fase di compilazione ad esempio la traduzione di questo for each nel codice nel bytecode altre invece vengono fatte a runtime quindi a runtime il compilatore scopre che items è nullo non è inizializzato ok a questo punto il codice di nuovo torna a essere corretto quindi se andiamo a rieseguire il nostro codice abbiamo la stampa ragionevole che abbiamo avuto prima domanda nel for each quindi torno un attimo nel codice qua nel costrutto for each creiamo un oggetto provvisorio allora la risposta breve è sì sostanzialmente allora vi commento questo codice e vi scrivo l'esatto equivalente del ciclo for each quindi viene tradotto come quindi for int i uguale a 0 i minore di items punto length più qui graffa e poi item t uguale items di i e poi esattamente quello che c'è qui quindi questo quindi questo corpo del ciclo for del ciclo for each viene tradotto spostato sostanzialmente dentro un ciclo for quindi questo effettivamente prende la cella iesima dell'array items e la copia dentro item attenzione che qui è una copia di un riferimento quindi non copia l'intero oggetto perché dentro l'array non ci sono gli interi oggetti ci sono dei riferimenti quindi quella è un'operazione di copia sì dell'elemento dell'array che è un riferimento quindi è sostanzialmente una quantità di memoria molto piccola torno sulla classe item la classe item per il momento è molto semplice manca un sacco di dati di informazioni perché ovviamente non abbiamo ancora completato non abbiamo ad esempio ancora i prodotti a questo punto mancano ancora i prodotti la lista di prodotti quindi se torno al mio vado a chiudere questo se torno alla mia struttura ci mancano la classe price list e la classe product domanda nel diagramma uml la classe item non avrebbe gli attributi come abbiamo inserito l'attributo quantità abbiamo inserito l'attributo quantità giusto per metterne uno per cambiare un po' effettivamente nella traduzione diretta non dovrebbe esserci nessun attributo quindi quella che abbiamo fatto è una variante rispetto a quanto vediamo nel diagramma uml e in più rispetto al diagramma uml la traduzione diretta dovrebbe essere non c'è nulla adesso spostiamoci su questa parte destra e andiamo a mettere andiamo a creare la classe price list e la classe product quindi torniamo qui salviamo tutto e andiamo qui dentro in questo package ricevute a creare la nuova classe price list e un'altra classe che è product allora nella nella sulla chat c'è un'altra risposta a quello che dicevo io sostanzialmente rispetto all'uml è un'aggiunta l'idea è che io magari voglio andare ad aggiungere tre esemplari di un prodotto in una volta sola invece di aggiungere tre item separati ok però se vogliamo avere una traduzione pari pari questo è ovviamente il costruttore che lo inizializza scusate non dovrebbero esserci ok questi sono in più rispetto a al diagramma uml quindi abbiamo prodotti e la price list quindi la classe product non ha nulla se non un public product find int codice code visto che parliamo in inglese ok per il momento questo metodo lo lasciamo così se lo lasciamo così in realtà il compilatore ci dà un errore perché ci dice che il metodo dovrebbe restituire qualcosa restituisce un oggetto tipo product per togliere l'errore noi andiamo a mettere return null ovviamente questo non ha minimamente senso è giustamente un blocco un pezzettino di codice che io metto per avere quella che è un frammento di codice che almeno sintaticamente è corretto da un punto di vista del funzionamento e della della semantica ovviamente è sbagliato ok quindi qui possiamo metterci un to do aggiungere l'implementazione vi faccio notare che io quando metto to do all'inizio di un commento automaticamente nel margine mi compare questo questo segnalino che mi indica che c'è un qualcosa da fare ok quindi product non ha nulla invece scusate questo non è product ma è bensì price list quindi sono di price list ha quel quel metodo di ricerca invece product lo vediamo qua nel codice ha due attributi che sono price e name quindi private double price e private string name normalmente normalmente quando ho degli attributi io posso pensare di inizializzarli tramite un costruttore quindi public product dotter double price virgola string name quindi this.name uguale name e this.price uguale price ok a questo punto la price list ha questo metodo find ovviamente in qualche modo il costruttore dovrebbe inizializzare la lista prodotti quindi dovremmo avere un costruttore public price list aperta chiusa tonda che inizializza i nostri prodotti ok ovviamente per andare a cercare i prodotti io devo avere anche modo di andare ad accedere ai prodotti sostanzialmente devo andare a implementare questa associazione lo posso fare usando la stessa tecnica che abbiamo visto nel caso dell'associazione tra scontrino e elemento quindi tra receipt e item oppure ve lo faccio giusto per farvi vedere un'altra variante potremmo utilizzare una lista concatenata ok quindi due possibili alternative iniziamo dalla versione base che utilizza un array e poi ve lo lascio come esercizio di andare a utilizzare una lista concatenata quindi private product quadre quindi un array di prodotti che chiamiamo products andiamo a dire products scusate products uguale a e qui posso andare a creare un nuovo array di prodotti inserirli dentro il mio array leggendoli da un file leggendoli da qualunque altra cosa oppure posso andare a utilizzare quello che è l'inzializzazione inline che è questa quindi new product e qui vado a mettere prezzo 4,5 birra allora per l'inzializzazione inline io devo andare a scrivere new product quadre e poi le graffe ok se l'inzializzazione invece di farla così direttamente statica dentro il costruttore la facessi qua qui potrei scrivere direttamente lo metto qua uguale graffe eccetera mentre invece nel caso di un'inzializzazione statica però non fatta quando dichiaro l'array devo andare a mettere questo blocchetto qua quindi new prod quadre e poi qui vado elencare i nuovi elementi quindi new product 5 e 40 virgola acqua virgola new product 3 70 carta igienica che mi dicono in alcuni supermercati sia sparita new product 8 e 90 olio ok quindi questi sono una serie di prodotti che quando creo l'oggetto price list sostanzialmente vado a inserire a questo punto come faccio a cercare i prodotti beh l'idea è che la posizione all'interno dell'array rappresenti il codice quindi quando cerco il codice 0 probabilmente sarà birra acqua sarà il codice 1 la cartigenica sarà il codice 2 e l'olio sarà il codice 3 ok? per cui dato un codice posso andare a fare un return di cancello quello che c'era qua faccio return di products di code evidentemente ho dimenticato ma l'ho fatto di proposito qualunque controllo ok? bene quindi andiamo a vedere negli nostri esempi di ricevuta qui immaginiamo di avere una price list listino uguale new price list price list ovviamente non c'è devo chiedere a eclipse di mettermi l'import ovviamente potrei anche scriverlo io a mano import ricevute punto price list ok? è semplicemente un po' più comodo far solo generare da eclipse a questo punto immaginiamo di andare a cercare un prodotto quindi product import product p uguale a listino punto find e andiamo a mettere il codice 1 ok? e poi correntemente con quanto avevamo qua il prodotto può essere stampato quindi possiamo avere un metodo print che stampa il prodotto in realtà qui avevamo due metodi quindi sia il metodo get price che il metodo print che quindi possiamo andare a definire dentro la nostra classe prodotto ok? torno un attimo sulla price list ok? quindi abbiamo il costruttore che genera tutti gli elementi e il find che cerca gli elementi ok? torno su product e vado a definire i due metodi quindi public double boolean get price che fa un return di price scusate boolean non c'entra niente double get price e poi public void print e quindi qui sostanzialmente andiamo a fare un system out print name più mettiamo un tab price a questo punto se io torno al mio esempio questo dovrebbe stamparmi p.print dovrebbe stamparmi il prodotto quindi se vado ad eseguire e non ho commesso errori acqua 5.4 ok? e poi gli item in realtà me lo stampa due volte perché avevamo scritto più cicli dentro la ricevuta ok? quindi ve ne commento uno così resta soltanto una stampa ok? cosa succede se io cerco di accedere a un elemento che sta fuori dai limiti dell'array quindi immaginate di voler andare a fare p listino find per l'appunto 523 cosa succede? proviamo a eseguire e vediamo il risultato ovviamente ovviamente c'è un'eccezione le eccezioni abbiamo capito ci danno sostanzialmente una serie di messaggi che rappresentano degli errori in particolare in questo caso l'eccezione è array index out of bounds exception ovvero l'indice che ho utilizzato per accedere a un array è fuori dai suoi limiti cioè è minore di 0 oppure maggiore o uguale della lunghezza e di nuovo in questo caso io ho la posizione precisa dove c'è stato l'errore quindi in questo caso quello che potrei fare è se code è minore di 0 oppure code è maggiore o uguale di items scusate non items ma products punto length system out println errore prodotto inesistente e poi cosa faccio? restituisco ad esempio un null a questo punto se eseguo questo codice quello che ottengo è errore prodotto inesistente ok? quindi stampo il messaggio d'errore e do la possibilità di andare avanti senza generare un'eccezione perché ho aggiunto questo controllo quindi rispetto a quanto potete aver sperimentato in C in Java c'è la possibilità di avere la virtual machine che vi segnala immediatamente dove l'errore è dove avete utilizzato un index out of bounds fuori dai limiti di un array allora java lang array out of bounds non è un metodo ma bensì è una classe le eccezioni in Java sono sostanzialmente delle classi che rappresentano che si portano dietro le informazioni sull'errore quindi dentro l'oggetto di eccezione che viene generato quando accedo a un array fuori dai suoi limiti questo oggetto di eccezione viene generato dalla virtual machine e dentro mette tutte le informazioni quindi il tipo di errore l'indice che ho cercato di utilizzare la posizione e quindi mette tutto dentro questo oggetto quando la virtual machine vede arrivare un'eccezione prende quell'oggetto e sostanzialmente stampa il suo contenuto quindi non lo puoi implementare perché un oggetto è una classe già implementata quello che si può fare come vi accennavo prima è di andare a intercettare le eccezioni vi chiedo di avere pazienza perché poi per parlare di eccezioni dobbiamo parlare di un'altra serie di caratteristiche di Java tra cui l'ereditarietà che inizieremo la settimana prossima prima di poter capire come funzionano bene le eccezioni quindi abbiate pazienza per il momento consideratele come dei messaggi di errore della virtual machine poi più avanti capiremo meglio come funziona ok allora è ovvio che questa inizializzazione qua come giochino non può funzionare nel senso funziona se no io uso semplicemente quattro prodotti se no di più o voglio utilizzare dei codici diversi non funziona allora immaginiamo in product la funzione di print è sostanzialmente questa stampa il nome un tab o se preferite un paio di spazi e il prezzo quindi concatena la stringa nome più la stringa con due spazi più il prezzo torniamo alla price list immaginiamo di voler generare non quattro prodotti come esempio ma di voler generare non so mille prodotti quindi quindi a questo punto non li possiamo andare a elencare tutti nel senso che finiremmo esaureremo il tempo di tutte le lezioni dell'anno per poterli scrivere tutti quello che possiamo fare è di generare in maniera casuale nomi di prodotti e prezzi quindi andiamo a decidere quanto è grande il nostro array invece di andare a utilizzare questo andiamo a costruire un altro costruttore quindi price list aperta chiusa tonda che invece di essere un costruttore senza parametri è un costruttore che riceve un numero di prodotti allora domanda esempi ricevute può essere nel package ricevute potrebbe essere in un package esterno essendo un esempio può anche essere ragionevole metterlo nel package questa è poi una scelta vostra di design nel mio esempio l'ho messo fuori ma giusto per farvi vedere l'accesso a un altro package esterno ok però potete metterlo dove volete in realtà il codice del metodo main in realtà non cambia nulla cambiano poi gli input che stanno in cima quindi a questo punto diciamo che products è uguale new product quadre e mettiamo numero prodotti ok quindi products allora mi fermo un attimo domanda perché product find lo abbiamo definito nella classe product perché la classe product è un prodotto io devo cercare all'interno di tutti i prodotti quindi un prodotto non può cercare se stesso un prodotto sta dentro un listino e quindi io devo fare la ricerca nel listino e non nel singolo prodotto quindi i dati che io utilizzo per andare a fare la ricerca del prodotto non è il dato che sta in un unico oggetto prodotto ma bensì il dato che sta nel listino prodotti che quindi comprende tutti i prodotti ok e questo è anche il motivo per cui io vi ho messo esplicitamente la classe price list perché in generale è importante distinguere il singolo oggetto prodotto da quello che è l'insieme il contenitore mettendovi la classe price list esplicitamente vi ho forzato a vedere questi due concetti separatamente a volte è possibile con degli artifici andare a fonderli ma non sempre riusciamo a farlo in maniera facile ok a questo punto vi rimando a op polito it slash api a una classe che si chiama mat aspettate che le sto scorrendo e allora la classe math definisce una serie di metodi tutti statici che hanno tante funzioni uno di queste è il metodo scogliamo un po' sotto che si chiama random quindi questo è il metodo random ok quindi il link ve lo copio qua adesso vi lascio due minuti per pensare come potete utilizzare questa classe random per andare a generare nomi e prezzi casuali di prodotti ok e poi vediamo quella che potrebbe essere la mia soluzione ok mi prendo anche un attimo di pausa allora rieccoci benissimo allora una proposta è math.random abbiamo visto che la classe random il metodo random della classe math genera dei numeri che stanno tra 0 e 1 quindi se io li moltiplico per 100 ottengo quello che è un valore che sta tra 0 e 100 quindi torniamo a eclipse e quindi qua quello che possiamo fare è andare a dire va bene facciamoci un bel nostro ciclo che va da 0 a products.length product p uguale new product il prezzo che cos'è math.random random per 100 in realtà se è così ci saranno eventualmente dei prodotti che hanno come prezzo 0 ok quindi se per noi va bene quindi immaginiamo che siamo prodotti gratuiti in offerta in super offerta anzi questo va bene resta poi il nome il nome potremmo anche metterlo invece che è casuale mettere semplicemente prodotto più i ok domanda non dovrebbe essere fino a numero prodotti e beh in realtà products.length avendo inizializzato l'array a numero prodotti è esattamente lo stesso quindi qui posso scrivere products.length oppure numero prodotti i due valori sono uguali per costruzione quindi in questo caso noi abbiamo un buon numero di prodotti possiamo creare quanti vogliamo per cui nel caso scusate degli esempi ricevuti io qui posso invece di utilizzare il listino qui ne posso andare a generare mille e a questo punto posso stampare anche p.print anche quello che in realtà non avevamo trovato prima e a questo punto ho un null point exception qua allora devo aver fatto qualche pasticcio qua nella price list ah giustamente scusatemi ho creato il prodotto ma non l'ho aggiunto quindi sì giustamente come mi avete fatto notare in chat quindi products di uguale a p ok poi non è necessario la variabile temporanea potrei scrivere products di uguale a new product eccetera se volete lo facciamo in maniera un po' più compatta ok benissimo a questo punto torno di qua e perfetto abbiamo il prodotto 1 che costa 84 e 9182 eccetera eccetera e il prodotto 523 che 23 e 35 ok riprendo le domande che ci sono qua e poi andiamo avanti è possibile limitare la stampa a tot cifre sì il metodo matrandom è importato non l'abbiamo fatto esplicitamente allora sul numero di cifre adesso ci arrivo un attimo esaurisco le domande quelle un po' più semplici matrandom in realtà è qui non l'ho dovuto implementare perché mat vi faccio vedere qua si trova nella classe java.lang assieme alla classe string e altre classi quindi non è stato necessario importarlo perché automaticamente abbiamo visto che tutte le classi che si trovano nel package java.lang vengono automaticamente importate ok come faccio a stampare un numero limitato di cifre allora quello che posso fare è utilizzare ve l'avevo menzionato velocemente nella nella lezione parlando di string esiste un metodo format della classe string che permette di andare a prendere un valore e utilizzare le stesse notazioni che si utilizzavano nella printf in c per andare a stampare usando un formato specifico quindi tornando qua invece di andare a mettere il print del prodotto scusate mi stavo perdendo e qua quindi invece di andare a fare price qui io posso utilizzare string.format mettere price come gli argomenti e qui andare a mettere un percento punto due f ok non mi soffermo su questo vi ho messo un riepilogo delle string di formato sulle slide e lo trovate ovviamente nella documentazione anche della classe string tanto per darvi un esempio quindi se andiamo a cercare java appunto lang e andiamo a prendere la classe string e andiamo a prendere il metodo questi sono i vari costruttori e andiamo a prendere il metodo format che scusate l'ho passato eccolo qua il metodo format in realtà prende da una classe che si chiama formatter e sostanzialmente qui c'è tutta la documentazione sul formato eccetera ok quindi trovate sia sulla documentazione che una sintesi molto limitata sulle slide che vi ho messo a disposizione quindi a questo punto se torniamo a rieseguire il programma vedete che abbiamo 9380 e 5416 ok se volete potete anche utilizzare format per andare a stampare non soltanto price ma anche name utilizzando delle dimensioni predefinite in modo che sia poi tutto allineato ok esercizio per casa ok quindi esercizio per casa usare format per stampare name e price allineati a questo punto a questo punto abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per poter andare ad aggiungere un prodotto sapendo essendo in grado di recuperare le sue informazioni su prezzo e nome e poi fare tutte le operazioni conseguenti quindi quando noi abbiamo l'operazione di add di un prezzo e l'abbiamo qua quello che devo fare è chiamare add passando un codice a questo punto la ricevuta chiama il metodo find della price list e poi crea sostanzialmente un item a questo punto però l'oggetto ricevuta receipt deve avere conoscenza di qual è l'oggetto price list a cui fare la richiesta a cui chiedere di trovare il valore questo vuol dire che dentro la classe receipt oltre a questi attributi noi dobbiamo avere anche un private price list list come lo inizializziamo allora lo possiamo inizializzare ad esempio nel costruttore quindi price list 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 ok questo punto ovviamente quando vado a creare la mia ricevuta non la posso creare così ma la devo creare a partire dal mio list 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 prezzi a questo punto abbiamo sostanzialmente riprodotto questa associazione in cui la ricevuta è basata su un list 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 prezzi quindi questa associazione based on è stata tradotta nel codice java da questo attributo ok quindi questa è associazione based on ok ve la metto separata così la vediamo chiara quindi questo mi permette di avere l'oggetto received che ha un riferimento all'oggetto price list a cui può chiedere le informazioni sul prodotto quindi quando faccio le operazioni ok dopo aver prima di aver creato l'item allora il controllo lo facciamo all'inizio se non abbiamo più spazio nella nostra ricevuta diamo un messaggio l'errore qui prima di andare a creare l'item devo andare a cercare il prodotto p uguale a scusate listino punto find code quindi questo mi trova il listino scusate mi trova mi trova il prodotto nel listino a questo punto devo ricordarmi anche che nel nostro schema di prima l'item ha un riferimento al prodotto quindi come implemento questa associazione la implementerò dentro item andando a mettere un private product prodotto questa è sostanzialmente l'associazione che abbiamo chiamato refers to quindi ragionevolmente questo lo posso inizializzare direttamente dentro il mio costruttore quindi product prodotto questo punto non è più un do nothing ma fa qualcosa sostanzialmente this prodotto uguale a prodotto ok a questo punto qui quando devo fare la stampa invece di fare questa stampa qui che avevamo messo come prova giusto per prescrivere qualcosa semplicemente posso fare prodotto punto print per cui a questo punto tornando qua ovviamente non posso creare un nuovo item così ma devo passargli il prodotto a questo punto ho creato un item che ha un riferimento al prodotto e quindi quando andrò a stampare il prodotto l'item che cosa farà delegherà al prodotto la stampa perché l'item in sé non ha le informazioni le informazioni sono quelle uguali per tutti che stanno nell'oggetto prodotto quindi se io torno qua vi commento queste righe qua dei due prodotti perché ormai abbiamo visto che funzionano e andiamo a stampare quindi il listino contiene il prodotto 10 a 15 e 23 il prodotto 47 a 7 e 04 il prodotto 523 a 56 e 97 ok quindi abbiamo il nostro listino come facciamo a andare a stampare anche il totale non possiamo farlo da qui perché sostanzialmente qui sono dati che vengono stampati direttamente dal prodotto quindi non riusciamo a leggere questo valore questo significa che tornando alla nostra struttura dati dentro il metodo print di receipt devo andare a prendere il prezzo di ogni item e sommarlo gli item però non hanno il prezzo quindi andranno a chiedere al prodotto il prezzo quindi sostanzialmente quando io ho la stampa prima andrò a stampare l'item dopodiché andrò a chiedergli il prezzo la richiesta del prezzo verrà rigerata al prodotto e a questo punto l'item potrà restituirla alla nostra ricevuta quindi iniziamo dal prodotto quindi dal fondo qui abbiamo un get price l'item l'item avrà un public double get price che semplicemente consiste nell'andare a chiedere al prodotto qual è il suo prezzo quindi prodotto punto get price ritorno e nella nostra ricevuta nella stampa dopo che io ho stampato tutto in uno di questi tanti modi alternativi posso anche andare a stampare il totale quindi potrei inizializzare un double totale uguale a zero e poi tutte le volte che devo fare qualcosa andrò a dire totale più uguale a items di punto get price qui totale più uguale it punto get price anche qui avrò sostanzialmente lo stesso tipo di codice lo sto mettendo in tutti i cicli così sono effettivamente equivalenti e poi anche qui questa riga qua che abbiamo visto che è stata riportata e come viene tradotto dal compilatore abbiamo il totale quindi andiamo a prendere questo codice per ogni item che sta nel nel nostro array di item dello scontrino se non è nullo se non è nullo quindi non ho ancora raggiunto l'ultimo lo stampo e sommo il suo prezzo al totale e alla fine potrò fare un system out println totale due punti più totale o se vogliamo stampare totale con due cifre è string.format per 100.2 f totale a questo punto proviamo a eseguire il tutto e vediamo se la stampa è corretta ok quindi abbiamo il prodotto 10 che è 7.24 il prodotto 47 che è 92.05 il prodotto 523 che è 31.05 e il totale è 130.34 ok in questo modo abbiamo sostanzialmente messo tutti gli elementi necessari per andare a costruire il nostro scontrino vi faccio notare che in questo caso abbiamo un meccanismo in cui gli oggetti delegano l'uno all'altro e ve lo faccio vedere qua quindi il main chiede all'oggetto ricevuto di stampare l'oggetto ricevuto chiede a ciascun item di stampare il quale chiede a sua volta al prodotto di stampare il receipt per calcolare il totale chiede get price e poi il quale chiede un get price al prodotto e alla fine viene fatta la somma ok nella ricevuta noi vi ricordate abbiamo messo 10 come numero di item allora in generale osservando questo codice vi faccio notare che normalmente andare a mettere queste dimensioni qua non è l'ideale normalmente i numeri così senza una spiegazione che troviamo nel codice sono quelli che vengono chiamati magic number ovvero se io vado a leggere il codice e leggo quel 10 dico perché 10 ci sarà una qualche magia dietro questo numero per cui è corretto in generale invece di utilizzare i magic number è molto meglio andare a mettere un public static final int numero massimo elementi uguale 10 ok e utilizzare questo questa costante al posto del numero magico domanda perché public in questo caso potrei anche metterlo privato public però è un qualcosa che è accessibile a tutti quindi chiunque all'interno del programma può sapere qual è il numero massimo per cui se io volessi stampare il numero massimo lo posso avere a disposizione item length è 10 sì ovviamente ricordatevi che io non posso assegnare ad item length la lunghezza è un qualcosa che viene calcolato nel momento in cui io alloco l'array ma non posso fare nessuna segnazione se invece di 10 volessi fare 50 ecco lo modifico qua e automaticamente tutto il codice viene aggiornato a questo punto quello che vorrei fare è salvare il codice su repository e poi spiegarvi vi faccio vedere come voi potete andare a recuperare questo codice sui vostri pc e fare ovviamente poi le modifiche fare tutte le prove che volete e rileggervi il codice con calma allora quello che io faccio è andare a fare un team share project svn e poi vado a scegliere gli esempi di quest'anno che è un repository che io ho già fatto ok quando faccio la condivisione di un progetto di un progetto devo andare a indicare dove salvarlo dopo di che viene fatta un'operazione di commit ci torneremo con calma a parlare di commit di check out prima del laboratorio che ci sarà la settimana prossima quindi questa è la lezione di oggi che è il 18 marzo e questo sostanzialmente mi salva tutti i file sul repository subversion a questo punto come potete fare voi a recuperare quel progetto e metterlo nel vostro workspace domanda sulla sulla chat final sta per costante final significa che non può essere modificato ok c'era una delle lezioni che vi ho pubblicato online ieri a questo punto come fate voi a recuperare questo progetto la procedura è la seguente allora io cambio faccio un rename di questo progetto perché altrimenti non riesco a fare l'import quindi rename rifatto rename ricevute originale a questo punto quello che dovete fare voi per importare il progetto se avete clips aperto lo potete fare direttamente con me era fare file import questo presuppone che voi abbiate installato il plugin subversion e quindi abbiate quando fate un file import svn ok se non l'avete fatto le istruzioni sono su op polito it doc installazione del plugin subversion che è qua ok in ogni caso la lezione è registrata quindi poi vi potete rivedere tutto quanto fatto quindi una volta che fate l'import andate a scegliere subversion e scegliete project from svn a questo punto fate next non uso qualcosa quindi voi avrete questa lista vuota perché non avete nessun esempio quindi fate un create new repository next andate a scrivere http s 2 punti slash op polito punto it slash svn slash op 2020 slash ita che è sostanzialmente quello che vi ritrovate sulla pagina del corso qui quando parliamo di esercizi e esempi svolti avete esattamente questo url ok che è quello che vi ho scritto di là quindi lo copiate qua dentro potete dare un'etichetta ok quindi esempi po anno accademico 19 20 non dovete mettere un'autenticazione perché quel repository è accessibile in lettura a chiunque allora ho sbagliato qualcosa ah grazie ita1 allora http in realtà è meglio mettere https scusate faccio un back indietro quindi ita1 perché giustamente ci sono tre corsi in parallelo quindi ogni corso ha una cartella separata http https sono indifferenti quindi voi potete accedere a op e anche a softend usando http o https ok io per abitudine cerco di quando scrivo scrivo sempre https ce però i due sono equivalenti quindi ita1 perfetto next me l'ha validato a questo punto noi non dovete fare finish altrimenti andate a importare tutti i progetti in un colpo solo invece eclipse si aspetta che voi facciate l'import di un unico singolo progetto quindi a questo punto dovete fare browse e andare a scegliere ricevute c è una cartella dove c'è la versione in c di questo scontrino quindi andiamo a scegliere ricevute che è il progetto che vi ho condiviso adesso ok a questo punto avete selezionato ricevute qua potenzialmente potete andare a prendere versioni vecchie in realtà quello che normalmente si fa è andare a prendere l'ultima versione quella che si chiama head revision finish a questo punto vi dice va bene faccio il check out in un progetto che si chiama ricevute in maniera ricorsiva e faccio finish ok a questo punto io ho il mio progetto ricevute che contiene tutto quello che avete a disposizione allora se avete errori durante l'operazione andate a verificare di aver fatto tutti i passi cioè soprattutto di aver anche installato il connettore quindi quando nelle proprietà nelle preferenze di eclipse vi ritrovate allora team svn e svn connector qui voi dovreste avere svn kit qualcosa se non ce l'avete dovete installarlo ok è una un possibile errore che voi avete che potrebbe essere la causa degli errori che vedo scritti qua ok poi io purtroppo non riesco a vedere i vostri computer e quindi neanche accedervi quindi non riesco a risolverlo nel dettaglio ok quindi questa è la causa più probabile verificate di aver seguito la procedura che c'è sulla pagina del corso quindi quella che vi ho citato prima quindi questa qua che ora vi copio in chat se avete più connector mettete svn kit 1.8 quindi quello più alto ok non mettete java hl perché altrimenti è un disastro e non funziona o meglio funziona soltanto in alcuni casi mentre invece svn kit funziona tendenzialmente sempre l'url di svn è sostanzialmente questa che adesso vi copio e quindi copiate quella la mettete nell'import e a quel punto dovreste riuscire a farlo le volte successive che dovrete importare dei progetti che io vi ho condiviso su Subversion non dovrete più creare il repository ma semplicemente dire vado a prendere questo repository ricordatevi sempre di fare l'operazione di browse e selezionare il singolo progetto altrimenti quello che ottenete è di fare l'export di una cartella che non contiene un progetto ma contiene tutti i progetti Eclipse in questo caso non è più in grado di riconoscere nulla e quindi vi dà un errore non riuscite a gestire Eclipse correttamente ok allora direi che con questo io concluderei la lezione di oggi quindi è stata un po' più pratica potete guardarvi il codice potete modificarlo un'altra cosa che potete fare è all'interno della classe Recipt invece di avere un array di item provare a trasformare la classe item in modo che funzioni come elemento di una lista linkata e gestire la lista linkata invece di un array questo ha il vantaggio che non c'è più un limite al numero di elementi perché la lista può essere estesa quanto volete domanda per le liste bisogna usare la collection no nel senso che normalmente si fa ma in questo caso l'esercizio che vi propongo è di scrivere a voi direttamente la lista delle collection quindi di come le liste sono già implementate in Java parleremo più avanti e vedremo che poi è il modo standard di andare a gestire queste cose ok allora direi che per oggi vi saluto vi metto poi ancora una lezione sugli ultimi aspetti un po' più particolari delle caratteristiche di Java base che potete poi guardare in realtà sono caratteristiche un po' più avanzate qui che useremo poi direi più avanti non immediatamente e direi che noi ci rivediamo lunedì c'è la possibilità ovviamente come al solito di chiedere chiarimenti o risolvere dubbi su Slack se avete problemi con subversion scrivete sulla parte di installazione o di del software per cui cercherò io magari aiutato anche dagli altri collaboratori di darvi una risposta e di cercare di darvi un aiuto se avete problemi ripeto cercate di seguire passo passo con molta cura la procedura che vi ho linkato lì ok e che comunque trovate poi anche sulla pagina del corso arrivederci a lunedì e buon proseguimento di settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti